Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Miaz94 che mi chiede di parlare del film di Guglielmo del Toro del 2002, Blade 2, seguito appunto del film di Steven Norrington di 4 anni prima che aveva un ottimo successo, questo Blade 2 ha avuto anche questo un gran successo, però è nettamente superiore al primo, insomma Blade sappiamo tutti appunto il vampiro, metà vampiro metà uomo, interpretato alla stragrande da un'altra volta, Wesley Snipes è sempre più in forma, del Toro però trasforma tutto quello che era in action, nel primo qui in molte scene gotiche in realtà e trasforma tutto in un fantasy violentissimo dove il sangue scorre a fiumi, dove i mostri fregnano sovrani e dove l'umanità viene quasi messa trasversalmente come se non esistesse più o meno nel film, perché la storia appunto è questa di Blade che va a liberare appunto Abraham e il suo amico interpretato da Christie Stofferson che era stato trasformato in un vampiro e che quindi il nostro con il serio riporta normale ma è chiaramente curato dal tumore e tutto quello che era del primo, torna a lavorare con lui anche se insomma il nostro sta lavorando con Scud interpretato da Norman Ritz che è un ragazzo insomma che ha delle idee che dà una mano appunto a fare quello che faceva Abraham prima, le armi e tutto il resto per Blade. Dopo che il nostro è rientrato un po' insomma sono nel loro covo, vengono attaccate da un gruppo di vampiri simil ninja, ma poi scopriamo che in realtà sono dei vampiri che sono stati messi appositamente per testare Blade perché il capo dei vampiri, Damaskinos propone praticamente un patto a Blade, propone di sconfiggere una razza nuova di vampiri che praticamente ammazza anche i vampiri stessi e che è di una violenza incredibile e la potenza totale. Blade lì per lì sembra voler rifiutare ma poi piano piano in realtà accetta di trovare appunto tal Nomach che noi vediamo nell'incipit veramente bomba dove lui va a levarsi il sangue e li pensano che siano vampiri, invece lui se li sbrano tutti a Praga veramente ganso, mentre appunto il nostro Blade si avvicinerà sempre più a Nissa, questa grandissima combattente figlia appunto del capo vampiro e di lì insomma tutta la lotta del nostro Blade per cercare appunto di distruggere questo Nomach, ma in realtà sotto c'è anche un piano dei nostri vampiri più infame e poi di lì tutto quello che succederà in mezzo a un cast fantastico, un grande Luke Goss appunto che poi tornerà a fare il principe nomada nel film del nostro che fa splendidamente Nomach, un ottimo Ron Perlman nel ruolo ganzissimo di Reindar, un ottimo Leoran Barola a fare Nissa, un bravo Tom Curran a fare Priest, il mitico Donnie Yen a fare Snowman, un film che come ho detto una volta ci immerge nel mondo del toro che appunto prende Blade e lo inserisce all'interno del mondo dei vampiri e quindi già dall'inizio si parte la stragrande prima battaglia, lotta a moto, taglia testa, tutto quello che deve succedere alla stragrande per poi entrare, come ho detto dopo la botta di Praga e questo inizio, direttamente appunto dentro la storia e si viene inseriti con un Blade che chiaramente è attorno a questi cacciatori che lo vogliono tutti morti perché è il loro nemico totale, che però devono sottostare agli ordini dello stesso per cercare di trovare questo e cercare di trovare una situazione diversa perché sennò questi neo vampiri potrebbero distruggere tutto il mondo. In tutto questo sono scene fantastiche come quella della discoteca che a dir poco è eccezionale, tutto un finale straordinario, tutte le parti in cui ci sono i combattimenti e le scenerazioni e il nostro del toro le gira veramente alla stragrande con un eccesso forse di computer grafica dell'epoca che è un pochino invecchiata, ma il film a livello narrativo non è invecchiato per niente, la scingiatura è fantastica. Stavolta Davis Goyer riesce a beccare la giusta idea e stavolta Del Toro la mette in scena perfettamente con un'idea cupissima, non c'è praticamente mai una luce del giorno, un film che usa l'ironia ma usa anche tantissimo un'altra volta la violenza che questa volta diventa più enfatizzata appunto dall'utilizzo incredibile dei mezzi cinematografici di un Del Toro lanciatissimo con delle luci di Gabriel Beristan che sono impressionanti, hanno dei tagli gotici a volte incredibili, a volte dei tagli pop mostruosi, a volte dei tagli invece che vogliono dimostrare un certo tipo di idea barocca, specialmente nelle parti appunto dove c'è il bambiro capo con questa sensazione di mondo che crolla e di malzanità che c'è per tutto il film, che chiaramente è un'altra volta un horror d'azione ma che diventa un fantasy nelle mani del nostro perché ogni apparizione praticamente di ogni personaggio è sempre più interessante, poi tutti i colpi di scena, i giochi, i ritorni sono veramente ben fatti e siamo di fronte a un'idea appunto di un certo tipo di cinema che funziona proprio perché il Del Toro la fa funzionare, su una sceneggiatura come ho detto azzeccata, comunque stavolta il nostro elimina ripeto il concetto dell'umanità e ci trasporta nel mondo dei mostri come ha fatto con El Boy 2, cercando di appunto trasportarci in un mondo mai visto e quindi facendoci crescere ancora di più la tensione, facendoci crescere ancora di più l'ansia, facendoci crescere ancora di più l'idea di stare a vedere che cosa stiamo vedendo perché sembra quasi un film cyberpunk in un certo senso. E poi ripeto, il nostro riesce a creare proprio l'orrore, riesce a dare il senso anche di un certo tipo di melodramma con un finale veramente meraviglioso, è uno di quei filmoni, uno dei migliori cinecomics mai fatti sicuramente Blade 2, seppur ripeto legato a determinate condizioni, però il nostro Del Toro tira fuori una serie di sequenze più belle dell'altra, un'idea di un personaggio ironico sì, ma dal passato fortissimo e che qui fa sentire ancora di più la sua forza così come la fa sentire il personaggio Chris Kistoffersen che sale di livello. E tutto sale di livello proprio perché il film evita appunto di sembrare un poliziesco e in realtà diventa un fantasy dalle tinte gialle sì, ma in realtà per i colpi di cena che ci sono dietro e per l'infame, per l'infame insomma del potere che poi è sempre la cosa peggiore per Del Toro, il potere che si possa rivedere nella spina del diavolo o nel fauno fascista, il potere americano sulla forma dell'acqua, grandissimo film, il potere appunto diciamo così del male sul bene in determinati suoi film che qui però non viene diviso così dicotomicamente perché comunque i vampiri non sono tutti cattivi e gli umani non sono tutti buoni, quindi un film un'altra volta che fa discutere sulle diversità, fa discutere sull'umanità, fa discutere su che cos'è l'amore, cos'è l'amicizia, cos'è la paternità anche in un certo senso e che cos'è il tradimento per un film ripeto con un finale bomba e che ribalta totalmente i ruoli e che riesce un'altra volta a far capire che Guglielmo Del Toro gira tutto quello che gli pare con grandissima mano e grandissima classe, con primari che riescono sempre ad avere la loro forza psicologica, non sono mai buttati a cazzo di cane e poi ripeto ci sono delle scene che alcune horror veramente azzeccate, il mostro che si apre sono veramente i terrichicanti e l'overcraftiano in un certo senso e si possono mescolare però in questo film in modo enorme appunto alla commedia, al dramma, alla storia d'amore, al romanticismo, tutto senza dimenticare la faida familiare di Shakespeareana, memoria quasi, quindi un film molto potente, un film che ancora da oggi dopo più di vent'anni di distanza rimane freschissimo, è attuale per come racconta la storia, per come è messa in scena e ripeto se non fosse per qualche effetto in CGI, adesso è invecchiato un po' male come quasi tutta la CGI il film comunque rimane veramente un'opera che pare girata ieri l'altro per freschezza rimessa in scena, per montaggio, per fluidità e per grande immaginazione che Del Toro emette in ogni piccola inquadratura i suoi movimenti di macchina sono perfetti, tutti quei piano sequenza con la stedicam, tutti quei movimenti circolari tutte le panoramiche che servono a farci scoprire sempre di più dove siamo con una lentezza a volte disarmante, è veramente un'altra volta che il segno distintivo di Del Toro funziona su qualunque film, li facciano cazzo fare e questo Blade 2 ripeto rimane uno dei migliori cinefumetti perché ha dentro di sé proprio la voglia di essere portato, la voglia di narrare qualcosa al pubblico ecco il link di Blade 2 qua sotto, donate sul Patreon, mi piace, iscrivetevi al canale qui sotto c'è anche il pulsante del super grazie per donare direttamente su Youtube seguitemi su Facebook e su Instagram per sapere che cazzo faccio a Giro per l'Italia e poi che vi posso dire di più, per me questo è veramente un film di quelli da non perdere un fantasy action con tinte horror che il grandissimo Del Toro tira fuori senza colpo ferire poi come ben sapete io so di parte, per me di Del Toro si guarda anche il filmino delle vanze suo e della sua moglie, me ne frega un cazzo e questo Blade 2 dimostra che il nostro appunto Guglielmone qualunque cosa tocchi la trasforma in oro ceppo da di e questo è il nostro appunto Guglielmone qualunque cazzo